Dopo le clamorose affermazioni del prefetto di Chieti Barbato sull'assenza di condizioni per regolare il svolgimento dello Jova Beach Party sul litorale Vastese, la città di Pescara è pronta ad ospitare l'evento. Sarebbero in corso già da stamattina alcuni sopralluoghi da parte dell'assessore comunale Grande Venti Alfredo Cremonese per individuare l'area più consona. Sarebbero un paio le zone sotto osservazione, ma siamo ovviamente ancora nella fase della verifica prima di avanzare una proposta concreta. Già nella giornata di ieri, dopo che il sito di Rete 8 per primo ha diffuso la notizia, alcuni consiglieri comunali dell'opposizione a Pescara avevano suggerito all'amministrazione cittadina di valutare la possibilità di ospitare il concerto qualora restasse il veto su Vasto a discapito di tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto. Sono a lavoro da ieri per verificare la possibilità di far svolgere il concerto di giovanotti a Pescara, così il neoassessore al turismo della comune Alfredo Cremonese all'indomani appunto della notizia dell'annullamento dell'evento a Vasto. Sentito il sindaco Masci spiega Cremonese, mi sono attivato per vagliare tutte le concrete opportunità per apportare il Jova Beach Party a Pescara. L'area è già stata individuata, ma corrono tutta una serie di controlli ed accertamenti per rilevare la reale fattibilità. Entro la giornata di oggi svolgerò degli incontri in merito, auspicando di riuscire a raggiungere un obiettivo atteso da molti. Intanto stamane seduta di Consiglio Comunale a Vasto, gli argomenti all'ordine del giorno sono altri, ma non si è potuto non affrontare anche la spinosa questione del concerto di giovanotti in programma il 17 agosto. Tra le principali criticità le dimensioni del palco che per la sua installazione in piena sicurezza ha bisogno di fondamenta che andrebbero a violare alcune norme sul vincolo paesaggistico. Il prefetto Barbato poi ha parlato dell'estrema difficoltà evidenziata dal Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica di chiudere, anche se temporaneamente, un tratto della Statale 16 non aggiornata, quella della 17 agosto, ancora caratterizzata dall'esodo estivo. Dal canto suo l'organizzatore Maurizio Salvadori ha assicurato i fan dicendo che sono mesi che l'organizzazione si sta occupando di questo evento a Vasto, anche grazie a una serie di progetti dettagliati redatti da professionisti locali e che confida nel fatto di poter rassicurare lo stesso prefetto nei prossimi giorni. Tuttavia, Salvadori ha anche precisato che i biglietti finora venduti non sono 40.000, ma poco più di 20.000. Grazie. Grazie.